Come riparare la propria auto con Autodoc Club. Vuoi imparare a riparare la tua auto con le tue mani e risparmiare sui servizi di riparazione professionali? Con Autodoc Club chiunque può diventare un maestro nelle riparazioni dell'auto. Diventa membro e avrai accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 alla più grande biblioteca online gratuita di materiali utili. Autodoc Club offre istruzioni passo dopo passo per la riparazione dell'auto, trucchi e consigli da parte dei professionisti, statistiche sulle spese di manutenzione della tua auto, un calendario per gli eventi importanti, un blog con articoli approfonditi riguardanti argomenti legati all'auto, un forum per comunicare con altri appassionati di auto. Autodoc Club è sempre a tua disposizione. Migliaia di manuali di riparazione per la maggior parte dei modelli di auto più diffusi. Se non riesci a trovare quello giusto, invia una richiesta e prepareremo un tutorial appositamente per te. I nostri tutorial sono semplici e dettagliati e ti saranno sicuramente d'aiuto. Domande? Contattaci e otterrai un rapido feedback dal personale specializzato di Autodoc. Autodoc Club, video tutorial da parte di professionisti. Oltre 3000 video tutorial. Il modo più semplice e pratico per spiegare ogni minimo dettaglio sulla sostituzione dei ricambi auto. Trova il tutorial giusto cercando in base al nome del pezzo o alla marca della tua auto. Guarda i video e impara dai tecnici migliori. Autodoc Club, tutte le informazioni importanti relative all'auto sul tuo smartphone. Inizia ad usare il registro online. Aggiungi la tua auto all'officina virtuale e inserisci tutti i dettagli del veicolo. Registra regolarmente le ultime informazioni sul chilometraggio, i rifornimenti e le sostituzioni e rotterrai statistiche aggiornate sulle spese e consigli di esperti sulla manutenzione del tuo veicolo. Carica le foto delle ricevute, salva le informazioni di contatto delle officine autorizzate e segna gli eventi nel tuo calendario. Con Autodoc Club avrai la certezza di non dimenticare le cose più importanti. Autodoc Club, tutto quello che c'è da sapere sulla riparazione delle auto.